quanto ciao a tutti è importante nel 2020 imparare a lavorare online ok in questa fase di pandemia col covide 19 ok ci siamo tristemente resi conto che lo smart working del lavorare da casa è sempre più importante ok al di là di arrivare al mio livello di poterti mantenere con l'online ovunque ok non vedo l'ora che aprono le frontiere per raggiungere la mia compagna dove io abito normalmente all'avanzano vicino a strasburgo in francia però dicevo è importantissimo oggi per un'azienda per te stesso se hai questa ambizione è logico non tutti comunque un'azienda è logico deve avere l'ambizione di fare un online ben fatto ok e se tornassi indietro e dunque adesso parlo ad un ragazzo giovane ok ti consiglio di imparare a lavorare online ok e poi di poter offrire le tue competenze al mercato essere capace a fare dei siti essere capace a promuovere quello che tu vuoi vendere essere capace a guadagnare attraverso l'online ma imparare a lavorare online è semplice imparare a lavorare online il marketing online le tecniche e la strategia non è per niente semplice perché se ti avventuri ti va ad avventurare su internet su youtube per dire a trovare i tutorial gratuiti è logico che hai tutto e di più ma tutto molto disordinato e dunque ad andare a comporre i pezzi del puzzle per imparare il lavoro con le basi i fondamentali e anche le finezze della specializzazione che sceglierai ok come ad esempio il tanto lavoro che va di moda adesso del social media manager è logico che andare a comporre il puzzle di tutte le competenze che servono per imparare questo lavoro online non è semplice ok io sono partito cinque anni fa esattamente così ok e voglio darti due dritte su come col sello di poi farei per risparmiare un sacco di tempo e un sacco di per cui cinque anni fatto come dicevo mi sono avventurato su internet e praticamente cominciai a seguire tutorial su youtube youtube è fantastico e cominciai a capire che questo era veramente un mondo ok fantastico la cosa che mi stuzzicò all'inizio che erano c'erano due tipi di siti e il mondo dei siti stava evolvendo fino ad oggi fino ad allora c'erano stati e ancora la maggior parte dei siti ad oggi sono così sono siti vetrina che nessuno va a visitare perché non sono ottimizzati secondo parole chiave e ancora più importante ok non sono ottimizzati per catturare i dati sensibili del visitatore vale a dire attraverso dei bottoni attraverso dei form attraverso delle landing page attraverso qualcosa da offrire però mi servì molto questo giro su youtube e mi ricordo che li catturò un video di frank merenda frank merenda andai a vedere i prezzi partecipare con lui era circa 3000 euro quattro giorni aspettai un anno e mezzo ok e poi mi decisi di fare l'investimento e andai a lubiana a vedermi venditore vincente ok furono quattro giorni veramente fantastici ok te lo consiglio frank merenda è veramente un grande ok me ne piacciono anche altri proprio sulla linea del tempo ok capì subito che con frank merenda anche se mi regalo molto dal punto di vista strategia di vendita e marketing per cui te lo consiglio anche se vuoi lavorare solo ed esclusivamente online anche se l'online vero non esiste ok mi fu veramente utilissimo ok e andai a frequentarlo fu veramente un colpo di spugna incredibile ok e cominciai veramente a risettare tutte le mie convinzioni ok a quel punto però io volevo lavorare online per cui cominciai ad acquistare corsi ho deciso di andare alla fonte ho acquistato dei corsi di dei guru americani e ti dico che veramente in italia trovi roba buona ok molto costosa ma ti dico tante volte molto incompleta la pace qualcuno che tratta solamente la strategia qualcuno che tratta solo il tecnicismo di facebook qualcuno che tratta solo il tecnicismo di youtube e non trovi mai un corso veramente completo per riuscire lavorare con tutte queste piattaforme e soprattutto unirli in maniera strategica per creare quelli che ad oggi vengono definiti fan nel di vendita per cui ho cominciato ad acquistare corsi italiani tanti soldi veramente buttati non ti faccio i nomi perché non sta bene e poco a poco poco a poco ma veramente faticosamente perché con tutti i corsi che acquisti che cosa succede succede che manca sempre un pezzettino e i vari guru italiani soprattutto ti vogliono tenere vincolato perché hanno un upsell sempre da farti ebbene adesso hai acquistato questo corso adesso compra quest'altro adesso oltre al line ticket che hai comprato c'è anche la consulenza che puoi fare direttamente con me ok per cui sempre a spendere 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 e non parlo più di investire denaro perché investire sulla tua persona è importantissimo ma a certo punto li si vanno a spendere soldi se devo fare un conto di tutto quello che ho speso e investito ad oggi io ho sorpassato i 60 70 mila euro di investimento per formarmi ma ti ripeto ho dovuto andare alla fonte dei corsi originali americani di strategia e di tecnica e di tecnica strategica del fan lì ho veramente imparato come si fa anche a fare questi piccoli video e a registrarli a bassissimo costo e che non è meno farmi la barba perché non ne ho voglia perché a casa sto veramente bene e non mi interessa che tu mi veda in giacca e cravatta tanto dopo se devo vedermi sempre giacca e cravatta diventa troppo faticoso prepararmi per il video per cui se mi vedi in ogni mio video io sono sempre tra virgolette normale e abbastanza sul tranquillo andante ok per cui poco a poco poco a poco poco a poco ok c'è stata una storia nella mia vita veramente molto importante sono andato a strasburgo e lì non parlo il francese e parlo l'inglese ok a lavorare in francia non mi vuole nessuno per cui io volevo seguire la mia compagna a strasburgo ok ho dovuto ho voluto fortemente imparare a lavorare online come ho fatto questi 70 mila euro di corsi che ho investito ho cominciato a studiarli applicarli e a vederli non durante il lavoro ok normale ok adesso si è il mio tempo pieno di poi ho tagliato una formazione la faccio tutte le mattine alle sette e mezza otto io faccio un'ora di formazione nuova e tutte le sere prima di andare a dormire il resto di giorno è lavoro ok non puoi fare tante ore così se la cosa non ti piace io amo l'online marketing ok per cui da dove ho ritagliato e da quello che ti consiglio anche a te il tempo per imparare e formarvi tecnicamente e strategicamente l'ho imparato ok investendolo alla sera piuttosto di guardare netflix investendolo nei momenti di pausa pranzo piuttosto di cazzeggiare te lo dico chiaro sui social network ok tutte le cose inutili e non produttive le ho completamente eliminate e mi ricordo che ho avuto un pensiero importantissimo titolo sei laureato per laurearti lavorando hai dovuto studiare molto adesso senza che nessuno ti dì la certificazione devi applicare lo stesso metodo e metterti a studiare studiare applicare studiare applicare vedere le cose che non funzionano e far crescere poco poco il tuo tram tram per cui se vuoi perseguire questa strada ma qualunque altra strada veramente ed emergere ok mantenerti prima e poi guadagnare di più per avere anche delle soddisfazioni è importantissima una cosa ci devi dare dentro e se non ti nasce da dentro questa cosa come quando ti dicono di smettere di fumare cioè finché ti dicono di smettere di fumare ti stressano la vita perché te lo dicono gli altri la pressione esterna non funziona vale la pressione che ti nasce da dentro io voglio imparare a lavorare online per cui mi sono messo davvero a pensare e ho detto com'è che posso facilitare alle persone guadagnandoci naturalmente ok dunque con un concetto win win vincere entrambi ok vinci tu perché risparmi tempo e denaro vinco io perché lavoro con te e guadagno come facciamo veramente a metterci d'accordo ho creato non un corso ma un percorso online dal vivo ok a schermo condiviso e praticamente che succede succede che il pacchetto di tre mesi di lezioni due volte alla settimana per un'ora ok a 500 euro al mese per tre mesi questa è un'offerta ok perché normalmente il corso di tre mesi costa 2.500 euro 900 800 800 più iva ok adesso è a 1.500 più iva per tre mesi ok io il prof che ti insegna tu l'alunno ok che vuole imparare l'online l'imprenditore che vuol portare al top il suo online ti insegno a gestire il tuo sito ti insegno a fargli la manutenzione e ti insegno a farlo crescere con varie tecniche la stessa cosa sui social con un solo obiettivo vendere quello che hai da vendere ok bene per cui sotto ti lascio davvero se vuoi fare questo percorso di tre mesi con me ok l'offerta vale fino decido adesso l'offerta vale per tutto maggio o di questi ricordati entro maggio ricordamelo sono tre mesi a 1.500 euro a 500 euro al mese più iva ok il contratto di tre mesi ci vediamo due volte alla settimana e io ti faccio decollare da terra da zero a professionista non aspettarti che questo percorso sia semplice questo percorso non è per niente semplice e io ti do anche i compiti da fare e pretendo ok siccome mi paghi poco sinceramente parlando ma pretendo che tu veramente studi e metta in pratica quello che io ti insegno per cui amico mio un qualunque cosa tu scegli di contattarmi io voglio bene veramente sono new age a tutto il mondo ti auguro buone cose nella vita molto importante continuerò con formazione più particolareggiata anche se oggi ho venduto il mio servizio in cui credo fortemente per farti diventare un professionista dell'online io mi ci mantengo dunque puoi farcela anche tu perché hai un cervello hai un cuore e hai una spirita che ce la vuole fare con tanta volontà ok per cui ti aspetto contattami iscriviti al canale e metti la campanellina perché normalmente non l'ho fatto sabato scorso ma tutti i sabati pubblico della formazione gratuita ciao ciao buon weekend